Ci vuoi leggere qualcosa a proposito di Europa Tiranna? Sì. Grazie. Noi europei non abbiamo alcuna autentica possibilità di incidere sulle dinamiche politiche e per di più siamo tenuti a eseguire ordini assurdi, in apparenza impartiti dai vertici dell'Unione Europea, ma di fatto formulati dalle oligarchie massoniche usuraie al comando di organismi quali World Economic Forum, ONU, Nato, OMS, Club Bilderberg, Aspen Institute. Che si tratti di portafogli digitali, credit carbon, flussi migratori, farina di grilli o concessioni balneari, il risultato non cambia. I popoli non contano nulla né decidono alcunché, sono anzi vessati, derubati, umiliati. Se provano a opporsi, il potere fa orecchie da mercante, avanza imperterrito, li stritola sotto i carri armati della ritorsione, della censura, del politicamente corretto e di un mito del progresso dipinto come inevitabile quando viceversa è il frutto delle elucubrazioni distopiche di un pugno di miliardari psicopatici. I paesi europei vengono invasi, le ricchezze depredate, i paesaggi deturpati. La società è stata imbarbarita, la cultura cancellata, la gioventù penalizzata. Eppure ciò non è avvenuto per caso. Quest'Europa totalitaria, matrigna, materialista, ingegnosa trappola normativa che si regge sulla truffa legalizzata dell'euro e del debito pubblico, è stata creata proprio con l'intento di depotenziare poco per volta la sovranità delle nazioni. Colpire le economie, l'identità etnica e le nostre tradizioni millenarie significa spappolare il vecchio continente, metterlo in ginocchio. Un passaggio prodromico all'instaurazione del nuovo ordine mondiale che entro il 2050 si prefigge di istituire un governo centrale, una moneta unica, un idioma comune e una religione universale in un generale quadro di decrescita felice, transumanesimo e ipersorveglianza. Le elite globaliste detengono immensi capitali, grazie ai quali controllano la finanza, i media, i governi, la magistratura. I registi delle sorti umane temono tuttavia che se l'incremento demografico procedesse ai ritmi attuali, entro un secolo le risorse idriche, nutritive ed energetiche della Terra potrebbero scarseggiare e i loro eletti discendenti rischierebbero quindi di trovarsi in difficoltà. Per scongiurare tale pericolo e in ossequio alle teorie malthusiane, si apprestano dunque a depopolare il pianeta. Sono astuti e spietati, obbediscono a una logica luciferina, ci attaccano su più fronti contemporaneamente, hanno adottato strategie assai articolate e pressoché infallibili che applicano con abilità chirurgica. Ne illustriamo alcune. Istruzioni per ridurre in miseria un paese. Infliggi trattati di pace ignominiosi sul piano politico, economico, territoriale. Abolisci la sovranità monetaria, genera debito pubblico e incrementa la pressione fiscale, delocalizza la produzione, alimenta la disoccupazione, svendi i gioielli del patrimonio industriale pubblico, spaccia titoli tossici, introduci i vincoli di bilancio, incrementa i tassi di interesse, lo spreade. Grazie. 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 Grazie.